ehi la ragazzi alto giro alta corsa e oggi un po così con il rischio però si sta bene non c'è sembramento quindi tutto molto bene alla grande un po coperto oggi e beh non è come un'altra volta bene la tana della volpe è lì 2006 e lì c'è il motta e lì la sestia un po' Grazie a tutti.